Pascal Pensieri, paragrafo 114. Fondandosi su ciò, costoro si danno a bestemmiare la religione cristiana, perché la conoscono male, immaginano che consista semplicemente nell'adorazione di un Dio concepito come grande, possente ed eterno, mentre questo è propriamente il Deismo, tanto lontano da essa, quasi quanto l'Ateismo, che le è affatto contrario. E ne trago un motivo per concludere che la religione cristiana non è vera, perché non vedono che tutte le cose concorrono a stabilire questo punto, che Dio non si manifesta agli uomini con tutta l'evidenza che gli sarebbe possibile. Ma le deducano pure quel che vogliono contro il Deismo. Nulla potranno inferirne contro la religione cristiana, la quale consiste propriamente nel mistero del Redentore, che unendo in sé le due nature, la umana e la divina, ha liberato gli uomini dalla corruzione del peccato per conciliarli con Dio nella sua persona divina. Essa insegna dunque agli uomini queste due verità insieme, che c'è un Dio di cui essi sono capaci e che c'è nella natura una corruzione che li rende indegni di Lui. Importa ugualmente agli uomini conoscere l'una e l'altra di queste due verità, ed è parimente pericoloso conoscere Dio senza la propria miseria o la propria miseria senza il Redentore che può sanarla. Una sola di queste conoscenze produce la superbia dei filosofi, che hanno conosciuto Dio ma non la nostra miseria, o la disperazione degli atei che conoscono la nostra miseria ma non il Redentore.